Racconta minuziosamente come ha costruito l'ordigno, con una precisione maniacale, ricorda a memoria la quantità del materiale e le modalità con le quali ha preparato l'esplosivo. Per lui, per Giovanni Vantaggiato, l'uomo reo confesso dell'attentato al Morvillo Falcone una passione, una lucida attrazione per gli ordigni. Quando parla agli inquirenti della preparazione lo fa con una lucidità quasi a godere nel racconto. Lui quella strage voleva farla, un po' per la truffa subita, un po' perché aveva visto scendere il suo fatturato di molto, dopo che non forniva più le scuole di carburante, anche se la sua situazione finanziaria andava molto bene. Ma lui era abituato a tanti soldi. Ma quella sua passione per le bombe fa dubitare gli investigatori, tanto da far pensare che l'ordigno preparato per il Morvillo Falcone non fosse il solo fatto da vantaggiato. E cercano nel passato, ma anche nel passato recente. A parte l'attentato a Torre Santa Susanna nel 2008 contro Cosimo Parato, che è l'autore della truffa da lui subita di 300.000 euro, c'è il sospetto che qualche altro episodio possa essere legato a lui, o meglio, che le bombe di qualche altra vicenda fossero sue. Intanto gli investigatori suonano a caccia di qualche presunto complice, di qualcuno che ha aiutato il 68enne di Copartino nella fase preparatoria dell'ordigno, che lui abbia potuto mandare qualcun altro a comprare il materiale o le stesse bombole. Mentre gli investigatori escludono che, vantaggiato, sia stato aiutato nel trasporto e nella collocazione delle tre bombole fuori dalla scuola, in quanto in una telecamera della zona si vede l'uomo parcheggiare l'auto in via Palmiro Togliatti, la perpendicolare della strada della scuola, lascia la vettura vicino all'edicola, sono circa l'1.40, poi scende e trascina il bidone con le ruote, svolta l'angolo, poi non c'è più il raggio di ripresa delle telecamere e posizionerebbe così il bidone sotto il cartellone. Quindi perde così ogni attendibilità la dichiarazione di un testimone che abita nel palazzo di Acente, il Morvillo Falcone, che raccontava di un uomo alto circa 1,80 m vicino al chiosco dei Panini che trascina il bidone. Ma il chiosco dei Panini si trova in una zona completamente diversa rispetto a dove, vantaggiato, è stato ripreso con la sua auto ed è stato notato con il bidone. Le immagini riprendono la macchina del 68enne dalle 23.08 sino alle 2.10. In tre ore non fa altro che girare nella zona.